Le associazioni di protezione civile a Gela celebrano il loro santo, la festa si terrà presso Piazza San Giacomo giorno 23 e il vostro santo patrono è San Pio. Sì, è un evento importante che coinvolge le organizzazioni che hanno preso parte ad organizzare l'evento. Si precisa che le organizzazioni sono state quattro, Corpo Volontario per il Soccorso, Eligio Soccorso, la GOMVES e le Giubbe d'Italia. TURC, tutte organizzazioni che operano a servizio della cittadinanza sul territorio comunale e anche regionale e nazionale. Come sarà articolata la festa? La festa è articolata in un momento che vuole essere una celebrazione proprio per ricordare la figura di questo povero tra i poveri. Qualcosa di sobrio che dovrà appunto far comprendere il valore della solidarietà espressa verso gli altri. Nulla, praticamente una messa e poi ci sarà alla fine della messa una benedizione degli uomini e dei mezzi sul piazzale, in distante, la chiesa. È prevista la partecipazione massiccia da parte dei vostri volontari? Sì, su per giù un gentinaio e più ci sono persone della comunità di Gela diciamo, quindi penso che saremo molti. L'appuntamento sarà giorno 23 alle ore 18 presso la chiesa San Giacomo Maggiore. Ci sarà una celebrazione eucaristica, poi la benedizione e la cittadinanza può partecipare. Sì, certo, venite in tanti e vi aspettiamo. La protezione civile e i volontari sono molto legati al loro santo protettore? Sì, certo, sono molto legati anche perché è il nostro protettore. Praticamente noi ci affidiamo come volontari di protezione civile, ci affidiamo a San Pio quando ci chiamano in fase di emergenza e con la speranza che ci aiuti ad assistere le persone. E vi rivolgete a lui anche con delle preghiere specifiche che recitate spesso tutti insieme? Sì, c'è una preghiera specifica per il volontariato di protezione civile.